Ciao, mi chiamo Giovanni Scadigno, sono laureato in giurisprudenza, mi piacerebbe tanto lavorare nell'area legale di una grande multinazionale. Secondo me i canali più interessanti per la ricerca del lavoro sono innanzitutto i motori di ricerca internet tipo job meeting ed altri e poi fiere del lavoro come quella a cui ho partecipato oggi. Secondo me gli aspetti più importanti nella scelta di un'azienda sono innanzitutto la stabilità dell'azienda stessa, poi la possibilità di crescita al suo interno e ovviamente deve essere buon su negli studi che ho fatto.